Il libro si occupa non soltanto di canzoni, canzonette, melodramma e opera, ma si occupa anche della violenza sulle donne, sia pure in tono apparentemente leggero. Quello che dice il libro è assolutamente vero, esiste una violenza sulle donne che si qualifica come violenza sulle donne. Le donne sono una categoria criminologica, cioè come vittime del reato in quanto donne e quindi non è un luogo comune quello di parlare di femminicidio, di abusi sulle donne, di violenza sulle donne perché è una realtà anche assolutamente locale. Il pregio del libro è di consegnare questo problema di cui si discute in termini di cronaca invece più sulla cultura e non solo sulla cultura alta ma anche sulla cultura cosiddetta bassa e cioè appunto le canzonette, la musica pop, i testi delle canzoni, cose sulle quali giustamente Carmela Formicola riflette, sottolineando il fatto che proprio in quanto l'ascolto di questa musica è un ascolto apparentemente distratto attraverso questa distrazione entrano e si consolidano alcuni stereotipi. Alcuni stereotipi che non sono quelli soltanto tradizionali della divisione in generi, del predominio maschile, del ruolo stereotipato e dei cliché sulla donna ma sono a volte, come in alcuni testi si legge, vere e propri inni alla violenza e all'abuso e questo è sicuramente un pregio naturalmente del libro. Questi testi non sono altro che il riflesso di quello che realmente è nella società, di quello che è stato e di quello che è nella società e quindi che la battaglia culturale non si può fare che in termini culturali. Grazie a tutti.